ciao a tutti è appena arrivata alla degusta box del mese di settembre non l'ho guardata quindi la guardiamo adesso subito insieme allora vediamo un po ormai questo c'è sempre la pasta armando la troviamo sempre un po ripetitivo però io sono felice perché è buonissima quindi ok magari potete cambiare ogni tanto però questa va sempre bene poi cos'è allora sugo di pomodoro con verdure ortolina allora non ho capito bene in che senso sugo di pomodoro sarà concentrato concentrato di pomodoro ok però più anche altre verdure va bene poi cosa abbiamo che bello rigoni di asiago monodosi di marmellata di fragole fragole di bosco bellissimo l'avevo anche finita e quindi mi va benissimo poi cosa abbiamo qua allora anziché gallette di riso gallette di patate e mais non fritte molto molto felice di provare questa novità poi questo vabbè questi rimettono spesso li darò a qualcuno così non li mangerò brownies con tantissima roba dentro latte bla bla che non mangio per cui questi darò qualcuno in famiglia poi questo sempre molto comodo fette di pane per fare il sandwich speriamo che sia pane che non contiene latte vediamo se sono fortunata volevo farlo vedere anche a voi però così faccio proprio delle riprese terribili vabbè in questo momento non lo vedo non vedo l'italiano ma insomma spero che non contenga latte poi abbiamo i gentilini che senza latte senza uova ma vabbè ma cosa devo dire cosa posso volere di più molto bene al farro poi le alte libe che so già a chi le darò anche il latte barista so a chi lo darò perché io non lo bevo poi qui abbiamo qualcosa nella confezione di vetro frullato proteico mela bosco avena questo mio e anche questi che io adoro questi crostini sono buonissimi integrali per me che che dire sono molto molto fortunata questo questo mese di settembre ci sono solo due cose praticamente che contengono latte quindi è quasi tutto mio per cui top questa questa volta vi lascio come sempre in descrizione il mio codice sconto se volete abbonarvi potete abbonarvi anche soltanto un mese quindi avete i sei euro di sconto utilizzando il mio codice e vi ricordo che ogni due persone a cui darete poi voi il vostro codice vi arriverà una box gratis quindi super conveniente potete annullare l'abbonamento in qualsiasi momento quindi anche prendere solo una col mio codice sconto e chiudere lì oppure continuare è sempre comunque conveniente anche senza lo sconto la box è conveniente il prezzo ma ripeto col vostro codice lo date a due amici e vi arrivano le box gratis quindi va benissimo direi niente quindi noi ci vediamo il mese prossimo con un'altra box e grazie alla prossima ciao ciao ciao